Con quali garanzie per i servizi di trasporto la MASPA, l'azienda per la mobilità aquilana, entrerà nell'azienda unica dei trasporti regionali, il TUA, Trasporto Unico Abruzzese, che già all'atto del suo insediamento ha tagliato parte dei servizi di trasporto sulla provincia aquilana, e quanto si chiede il capogruppo del nuovo centrodestra, il comune dell'Aquila, Alessandro Piccinini. Il consigliere, oltre a porre degli interrogativi sul futuro dei trasporti nel capoluogo d'Abruzzo dopo la fusione, riflette anche sull'opportunità della scelta prospettata. L'AMA oggi chiude il suo bilancio con un attivo di circa 25.000 euro, e sicuramente prenderà tutti i provvedimenti per un ingresso sicuro nell'azienda unica regionale. Ad assicurarlo è l'amministratore unico dell'azienda, Agostino Del Re, che sottolinea che tutto va salvaguardato sia dal punto di vista economico-finanziario, sia dal punto di vista di livelli occupazionali. Un discorso di una pianificazione a livello programmatica annuale, fare anche un discorso economico-finanziario. Questo si fa con un piano industriale, dove chiaramente le potenzialità o le parti, diciamo, i punti negativi dell'azienda si dovrebbero eliminare, perché a quel punto non si creerebbe una struttura di tale importanza. Ovviamente noi quello che siamo convinti e che pensiamo che si otterrà è che con questa fusione, laddove c'è un indirizzo, come ripeto, della proprietaria del Comune dell'Aquila di dire entriamo in fusione, sarà un discorso di equilibrio di quelli che sono i costi economici entrati in uscita, e vi compreso l'efficientamento e l'efficacia delle cose. Tenete presente che l'AMA ha tutt'oggi già pianificato, con un discorso anche di economicità, di razionalizzazione, di efficientamento, di pianificazione, quello che potrà essere anche l'indebitamento che c'era nell'AMA. L'AMA oggi chiude bilancio 2014 con un utile al netto delle imposte di circa 24-25 mila euro. Questa è la linea che noi intendiamo portare avanti. Grazie a tutti.